Un dato importante, sicuramente eravamo molto più contenti prima quando avevamo quei dati che erano leggermente superiori, che ci davano però la possibilità di accedere senza ballottaggio. Ora ne prendiamo atto, giustamente è sempre un risultato importante, io non lo immaginavo ottenere queste percentuali anche dal punto di vista di conoscendo i miei competitori che erano molto importanti, erano delle persone che già avevano amministrato e quindi mi ritengo molto fortunato e soprattutto mi ritengo contento del risultato ottenuto. Abbiamo fatto una campagna elettorale dura e lunga e quindi queste ulteriori due settimane non ci volevano proprio era meglio sicuramente chiudere il tutto senza turno di ballottaggio, però ne prendiamo atto e ormai facciamo un ulteriore sacrificio per arrivare alla meta, speriamo che avvenga presto. È stato veramente uno spoglio al cardiopalma fino all'ultimo, molto combattuto però alla fine Cicli ha scelto e quindi è arrivato il risultato. Ho già convocato una riunione di coalizione perché con spirito di collegialità innanzitutto analizzeremo il voto, ascolteremo quindi anche la città come si è espressa, però si continua, si continua sulla strada che già abbiamo intrapreso in questa campagna elettorale ma anche prima con il nostro impegno, quindi in mezzo alle persone, nelle piazze a spiegare quella che è la nostra proposta di svolta e di rinnovamento anche generazionale della città e quindi continuiamo con lo spirito di sempre. Io spero, ripeto, che la città continui a seguirsi e a farci sentire la sua vicinanza, noi non ci risparmieremo per spiegare, per parlare, per confrontarci e poi scegliere a Cicli. Parliamo di possibili alleanze, lei rappresenta un'area di centro-sinistra, anche la coalizione che è stata a sostegno di Giorgio Vindigni e di centro-sinistra. Potrebbe esserci l'alleanza che magari molti pensano. Guardi, in questo momento proprio perché dobbiamo fare un passaggio in coalizione, come giusto che sia, non me la sento di parlare appunto di apparentamenti, anche perché finora abbiamo mantenuto, come dire, la barra dritta su tante cose, nel senso che siamo andati avanti, però è ovvio che oggi ne parleremo, quindi in coalizione, si cercherà di capire, di tirare le somme e andare avanti.